All'angolo, quella parola che garanzia per tutti noi di non essere schiavi delle mode che passano o di certi modelli culturali che ci vengono imposti. Rimanere dunque in questo costante ascolto alla parola. E siamo discepoli. Chi ascolta la mia parola è mio discepolo. E rimanendo in questa parola riusciamo ad approfondire la verità, la forza, la novità di questa parola di Dio che ogni giorno apre a nuovi orizzonti la nostra testimonianza di cristiani. Conosciamo la verità, quella vera, quella non imposta, non addomesticata. La verità che viene da Lui e che ci dà la vera libertà, anche se per questa libertà tanti hanno pagato con la vita. Ma la libertà vera è quella che si acquisisce in questo dialogo inesausto con il Signore. Dialogo fatto di ascolto, di risposte, di impegni veri, per essere ogni giorno capaci di ridire, a costo anche di prove, il nostro legame unico con Cristo Gesù. Grazie. 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 Grazie.